Io Pesh volevo provare un gioco Il gioco li prova Questo fratello, questo mi ispira proprio un botto Per me è proprio uno di quei giochi clamorosi Ma perché fratello ho visto che ci sono tipo i Pokémon Puoi sbustà, puoi far un po' di roba Eh, il fatto è che puoi sbustà, quello eh Come lo chiamo? CicciogamerTGC Manuzzo TCG Shop Bellissimo Non è un... non ci verrei mai Perché? Manuzzo mi sa, è proprio un nome da destra Cosa dici? Apri il telefono e fai scorta di pacchetti di carte Ah, mi sento Federico Ma scorta quanta? Ah no, uno su 32 mi sa Boh, pigiamone tipo... così Ritriate i pacchi Ah ok, vabbè, è classico Devo metterli sullo scaffale Cato l'aperta Ok, questa è l'espansione PESH morto Un po' cattivo come persona Ma è COP? Boh, non credo però Per essere di te si impossa il valore del prezzo E non so quanto costano Prezzo di mercato 3,76 Dai, te lo dice lì Boh, mettiamoli a 3,80 No, vabbè, giusto dai Ok, fa entrare i clienti aperto Ok, vai Li posso inculare i pacchi? Sì, li vuoi aprire in teoria Ma che cazzo dici? Eh, non so Completa con successo 5 check-out Devo bustare nel cestino? Ah, certo, certo Certo, certo, perdono Ah, yei, yei Tu entra qui Nel mio negozio Ehi, ehi Entra So che ti piacciono le carte Sei praticamente un fan di Dario Moccia E infatti Dai, dai Compra un po' di cartine Wuuu Compra le tue carte Oh, una bustona per due pacchetti di me Ah, no Non so Guarda quanti Wuuu Ammi la tua carta Quanto sono? 26,60 Sto sbagliando Ma è COP di Viene 6,2 6,5 No, ragazzi Come si fa? Un giorno Eccolo Eccolo, eccolo Ah, il gemello Oh, beh, benissimo Tutti con carta Di mortacci vostra Ehi, tu Dai, vieni qua Pelatone Mazza, stanno andando a ruba Ma se gli sbaglio l'importo Eh, mi sa che perdi clienti Cazzo Che sciocarte Che carta Bene Ragazzi Ragazzi, dai Fatemi scioppare un po' Wow, devo prenderne uno E beh Sì, c'è proprio la faccia di uno che Ma ne hai preso più di uno Ma che, che cazzo Ah, grazie Quanto io devo dare di resto? 18,20 Eh, fatto Ok Ma tu ne hai preso uno e basta Ma sei inutile Carta Facile Prendi i pacchetti di carte dello scaffale E apri per ottenere nuove carte E come li faccio ad aprire? La mano è piena Card opening Vai Oh, Sunflork Che cazzo roba Minstar Krobib Kitsune Gusciare Batrang Dai, dammi quell'aspetto Che merda 2 dollari e 14 Minstar Werbo Quervissimo Quervissimo a sta cosa Chirone Nanomite Plumplork ce l'ho già Klawop Gusciare Mamma che pacco di merda questo Eh, tio, ma non è che pure io cazzo di tutti Lupo Basta, ricazzo Batrang Mmm 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 Non mi dà le ex No, basta, basta Cazzo, li devo vendere Eh Ma io li stavo aprendo Ah, tu gli hai venduto i... Bro Che? Gli hai venduto i pacchi a be... No, no, no Non è vero Dai, da quanto cazzo ne prendete? Lasciatele un po' a me Cazzo Facile Tutti mi, tutti mi Come direbbe Thomas Angry Bro, non... Ma vaffanculo, non ho trovato niente Beh, ti ho visto Non sei iscritto ancora al canale E non provare a schifarmi Devi iscriverti E ricordati Di bere 10 litri d'acqua al giorno Così muo... E io godo No Fino a quando non trovo una carta da 400 euro Non mollo No, ma questi non c'è, bro Come no? Anche più devi cambiare i pacchetti Merda Ah 8 dollari Non ho fatto il trick, però Mi è capitato subito Ok Robib Cazzo, c'è un cliente Federic Simulator No, puzza Frate, quello puzza Perché puzza? Non gli do il resto dei puzzolenti Vabbè, frate Tieni un Franklin Un Benjamin No, me le hanno prese tutte Guarda i miei albums Vabbè, me ne mancano un sacco, però Tocca rifornire le mie carte, bro Come si apre il tablet? Madò, queste mi sa che sono un'espansione ancora più bella No, te ne da solo di più Sicuro Dai, sì No Eh, un attimo, Blood Se l'è in pacchetto Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Tutte mie Ciao Manu Ma è questa la nuova espansione di Monsters? La collezione di carte di Mario Doccia Sì È questa Eh, datemi un attimo Sì, arrivo subito da voi Sì 11 e 40 Ok Dai, puzzolenti Non mai puzzano tutti? Eh, seguono Dario Moccia Gli piacciono le carte Ma Nuzio Ma tu pensi sui numeri? Sono fan di Dario, io Hai capito? Tu ti hai una medda Lui fa i contenuti belli, no? Farza i prezzi, dite Apriamo Ok Gamme Ah, cazzo Non c'era niente qui Non mi piacciono Ste carte valgono poco Sono bellissimente Di plaggio a Pokémon Sì, certo Eh, però Vedi, secondo me devi mischiarle Ma che mischio Parana, merda Arrivo, arrivo, arrivo Facile Facile È l'ora dello sbusto È l'ora del pacchetto Che si apre Come si chiama il gioco? TCG Card Shop Simulator Ti mano Se siete l'opatici È perfetto Sì È l'ora dello sbusto È l... Oh, frate Cioè mi si è sputato addosso Cazzo, dai Ma Federic Mi vende i pacchi fallati Dai Vaffanculo È l'ora dello sbusto Dai Contratto Ciccio Gamer Dai, compra Guardalo per paura Quanto dure... Idea di quanto durerebbe il prologo Se lo scaricassi? Perché vi fate sempre queste domande inutili ragazzi? Cioè Ragazzi, ma cazzo Ma giocatele le cose Perché avete stanzia di sapere quando finiscono Quanto ci mette Adesso ora posso prendere i box? Oh, sì Sì, livello 13 Mi clac Lo compriamo subito, assolutamente Sì, ma è sempre il box Oh, succhialo, ha capito? È l'ora dello sbusto È l'ora del pacchetto Che si apre Prezzo di mercato? 31 Noi siamo più pazzi Sai quel TikTok? Oh my god C'è l'ora dello sbusto È l'ora del pacchetto Che si apre Che si apre Dentro c'è un minolino O forse un figurino Adesso guardo Adesso guardo Scoccio, scatola Busta, pacchetto Unboxa tutto E infila nel retto Ma perché? Non ha senso Ma perché infila nel retto? Ragazzi Ma che dice il Dario? Oddio C'è un gruppo di fan di Dario Moccia Qui puzzolenti Che vogliono Va bene, va bene ragazzi Un attimo, un attimo Scusatemi Arrivo subito È lavatevi, cazzo È l'ora dello sbusto Blu, 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 blu Ma dov'è la luce? Non la posso accendere Vaffanculo Ma così però mi sa che al buio Quelle tipolografiche risaltano Ultimo pack opening, ragazzi Basta Li apro tutti Ehi Oh 3 dollari de carte Vaffanculo Ma aspetti Mi dispiace Sto facendo male il mio lavoro Ma non mi interessa Oh, 21 dollari con la carta Bene Solari Dai Good pack Mazza questa Quanto shopping Oh, e chi è questa? Però manco questa se lava, eh No, no, lei si Ma però la mia collezione si sta ampliando, eh Eh sì, non c'è più un euro Oppa la la, guarda che belli Belle Mi piace Abbiamo fatturato Ma questo è figo Non lo disinstallo Questo lo posso riportare Questo è carino Ma ti dico proprio le sgoschi Lascia like e lascia un commento Commento Se no ti arriva un destro sotto il mento Come regalmente Reactions e gaming Puoi trovare di tutto Non troverai mai un edit brutto Grazie a tutti